Buonasera, benvenuti a quest'ultima edizione del nostro telegiornale dedicata completamente a tutti gli aggiornamenti sulla crisi del coronavirus. Cominciamo dalle parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha parlato questa sera e ha confermato ciò che già da ieri era chiaro, e cioè che le misure di restrizione resteranno in vigore fino al 13 aprile, cioè il giorno di Pasquetta. Poi, ha detto, si potrà cominciare a ragionare sulla fase 2, quella di lenta uscita dalla prima fase più stretta dell'emergenza. Vediamo cosa ha detto Giuseppe Conte. Ho appena firmato il nuovo DPCM che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il Ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure così come sono state disposte sino al 13 aprile. Lo dice il Presidente del Consiglio in una nuova conferenza stampa d'ora di cena sull'emergenza del coronavirus. Rimane il regime di vincoli che abbiamo predisposto, ribadisce, tutte le limitazioni degli spostamenti e la chiusura delle attività commerciali e produttive non essenziali. È in atto con la comunità scientifica la possibilità di valutare per quelli che hanno superato la malattia come recuperarli alla piena operatività, ma per ora non cambia nulla. Conte delinea anche una sorta di roadmap per uscire dalla crisi e parla di una fase 2 che riguarderà un allentamento graduale delle misure e che prevederà una convivenza con il virus e infine una fase 3 con l'uscita definitiva dall'emergenza. Tra le novità del decreto di questa sera anche la sospensione degli allenamenti di squadra per le società sportive e gli atleti professionisti. Dal Premier poi anche un chiarimento circa l'ultima circolare del Viminale sulle passeggiate vicino casa che ha provocato proteste da parte di alcune regioni e alcuni sindaci. Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini, spiega. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l'accompagnamento di un bambino. E infine Conte parla dei rapporti con l'Europa e della difficoltà di costruire una solidarietà concreta e ribadisce. Il MES così è inadeguato a fare fronte a questa emergenza. È uno strumento nato per shock asimmetrici. Noi stiamo attraversando uno tsunami di portata epocale. Il MES può essere utile solo se verrà concesso senza condizionalità preventiva successive in modo da offrire una strategia europea. E vediamo quali sono stati i numeri rilasciati oggi dalla protezione civile. Ci sono 110 vittime in meno rispetto a ieri, anche se 727 morti sono comunque tantissimi. Anche oggi diminuiscono i ricoveri, ma anche a fronte di più tamponi effettuati in alcune zone d'Italia sono di nuovo in aumento i casi di contagio. Vediamo tutto nel dettaglio. Il totale nazionale dei contagi è tornato a salire. Quello delle vittime appare oggi in discesa. Numeri che come sempre vanno interpretati. I nuovi casi positivi sono 2.937. Le persone guarite sono 1.118, quasi 17.000 nel complesso. I morti accertati nelle ultime 24 ore sono 727, hanno superato quota 13.000 dall'inizio dei rilevamenti quotidiani da parte della protezione civile. Le cifre dipendono anche dal numero dei test del tampone effettuati, che sono nel complesso aumentati. Un aspetto però su cui le regioni continuano a muoversi in ordine sparso e che porta l'andamento delle percentuali di crescita a non essere omogeneo. La Lombardia resta la prima linea della crisi, con più di 1.500 nuovi casi e tra le province, in trincea, il primato dell'emergenza spetta a quella di Bergamo. Dove si continua a parlare di dati ufficiali, sottostimati, su vittime e contagiati. Altre rilevazioni sul territorio, in particolare una dell'Istat, parlano di una crescita del 400% dei morti nelle prime tre settimane di marzo. Ma le testimonianze di sindaci e medici di base lasciano intendere che soprattutto il numero dei contagiati è molto più alto rispetto a quello che è stato effettivamente censito. Sono stati superati nel mondo i 900.000 casi di contagio e per l'OMS nei prossimi giorni sarà superato il milione. Poi tra le conseguenze, tra le tante manifestazioni annullate, c'è anche quella del vertice generale globale sul clima che era previsto a Glasgow per novembre. È stato rinviato al prossimo anno, non si sa ancora, a quando. Cresce poi il contagio in Sud America e soprattutto in Africa, dove la maggior parte dei paesi non ha certo le strutture adeguate per affrontare una pandemia. Non è il momento di mollare. Il messaggio arriva non solo dall'Italia, ma anche dagli altri paesi europei. La Germania estende il lockdown fino al 19 aprile. La pandemia non conosce festivi, ha detto la cancelliera Merkel. In Spagna ci si aggrappa un lieve segnale di frenata nei contagi e nei ricoveri, ma i numeri restano spaventosi. Oltre 100.000 casi e 9.000 morti. Anche in Francia gli ospedali stanno per scoppiare. Si stima che nella regione di Parigi, Lille de France, entro una decina di giorni ci saranno gli stessi numeri della Lombardia. Stesso scenario in Gran Bretagna, dove è stata un'altra giornata nera, 563 morti in più in 24 ore e i contagi arrivati quasi a 30.000. Fuori dall'Europa, gli Stati Uniti restano il più grande focolaio di coronavirus. Questa sera si è superata la quota 200.000 contagi. Il numero dei morti raddoppia ogni 24 ore. Donald Trump ormai parla giornalmente alla nazione e nelle sue parole cresce la preoccupazione per una pandemia che, ha ripetuto, potrebbe fare tra i 100.000 e i 240.000 morti. In Brasile anche il presidente Bolsonaro, messo alle strette dalle stesse istituzioni e dalla popolazione, ha cambiato i toni e ha ammesso la gravità della crisi. In Asia invece, dove si è usciti dal tunnel, preoccupano i casi di ritorno. Nella regione dello Henan, a nord dell'Hubei, 600.000 persone sono state sottoposte a misure di isolamento per il timore di una seconda ondata di contagi. Anche a Hong Kong, nuovi casi di ritorno e nuove strette del governo, che significano ancora una volta solo una cosa, non si deve abbassare la guardia. La Borsa di New York ha registrato il suo peggior mese dal 2008, l'anno della grande crisi, e il suo peggior trimestre dal 1987. Oggi la chiusura di Wall Street è stata la seguente, Dow Jones a meno 4,44, Nasdaq a meno 4,41, Standard & Poor's a meno 4,41. A spingere in basso anche le parole di Trump, pronunciate ieri, che aveva detto prepariamoci ad affrontare due settimane molto, molto complicate. Il Presidente sta, tra l'altro, incontrando i rappresentanti del settore petrolifero in grandissima crisi per cercare delle soluzioni, e starebbe pensando anche a dei dazi da imporre sul petrolio dell'Arabia Saudita. E dicevamo della cancellazione del rinvio della conferenza globale sul clima. Ma in Gran Bretagna non ci sarà neanche il torneo tennistico di Wimbledon. È la prima volta che viene sospeso, se si fa eccezione, delle due guerre mondiali che lo avevano fermato in passato. Il calcio europeo, invece, la UEFA ha concesso alle federazioni la possibilità di completare i campionati nazionali anche in estate. Per la Serie A sarebbe possibile la ripresa delle partite già da metà giugno. C'è anche l'ipotesi di far disputare gli incontri a porte chiuse o in campo neutro. Leghe e federazioni hanno ottenuto che i tornei nazionali avessero priorità sulle coppe europee, che comunque la UEFA vuole portare in ogni caso a termine, a costo di giocare tra luglio e agosto, anche se qualche campionato finirà a metà. Tutto questo, ovviamente, è legato all'andamento della pandemia. Questa era l'ultima notizia di questa edizione. Vi rimandiamo per tutti gli aggiornamenti a domattina alle 7. Arrivederci, buonanotte.